Nella edizione 2019 del Cessi La Bagnaia abbiamo due splendidi vincitori come Raffaele Barile e Chiara Poletti al successo di una delle prime gare di queste giornate. Raffaele Barile, allora raccontaci un po' questa bella avventura con Itka de Langwater, con cui hai vinto oggi e delle impressioni in questo splendido concorso. Itka, buongiorno a tutti. Itka de Langwater è una cavalla generosissima che mi porta in giro per l'Italia e qualche volta anche all'estero, mi aiuta sempre in tutte le situazioni, questa volta addirittura mi ha consentito di arrivare primo, forse meritatamente. Il posto è qualcosa di molto originale, unico nell'ambiente equestre che viviamo noi anche quando si va all'estero. C'è un fascino particolare qui alla Bagnaia, l'ambiente, le persone, l'organizzazione, quella meravigliosa festa che si fa tutti gli anni il sabato sera dove si balla fino a tardi e io mi do da fare più che posso. E infatti anticipi le mie domande, ti volevo chiedere, sappiamo che tu sei paragonabile a un tornado e alla sera qua hai pane per i tuoi denti, infatti stavi proprio dicendo? Sì, negli anni passati abbiamo ballato, poi un anno mi sono dovuto trattenere un po' perché avevo preso un calcio però non ho potuto far le gare ma ho ballato, quindi io vengo fondamentalmente per ballare avete scoperto il segreto della mia vita, quindi si fa perché si può. Qui ci si diverte tanto, quindi... Vabbè, complimenti allora a Raffaele Barile e adesso lasciamo il microfono a Chiara Poletti, oggi alle tue spalle ma ieri è stata la grande vincitrice e naturalmente come vedete già con uno dei bellissimi premi che vengono consegnati. Chiara, allora anche per te le tue impressioni di questo concorso e poi stai andando come un treno in piena corsa. Eh ma Oli è un cavallo magico, quindi lui dà sempre il meglio, noi siamo una coppia ormai, quindi ci vogliamo bene e cerchiamo di fare del nostro meglio quando entriamo in campo. Cambia proprio la prospettiva in questo campo, è meraviglioso, è tutto bello dall'organizzazione, i percorsi, siamo tra amici e siamo in un contesto in cui ci sono grandi cavalieri e ci sono, cioè però c'è un'atmosfera in cui la sera si diventa tutti uguali e ci si diverte insieme, soprattutto si balla. Oh mamma, ma tu hai dei bambini, sei una mamma, sei una persona seria, ma alla sera sfrutto tutto quello che c'è a disposizione qui. Sì, perché Bagnaia è il nostro concorso di libertà, i bimbi sono a casa con la nonna e noi ci divertiamo. Grazie allora Chiara Poletti e Raffaele Barile e con l'augurio di avervi ancora nel nostro salottino. Lo speriamo, grazie.